Si è riunito ieri pomeriggio, mercoledì 18 dicembre, il Consiglio Comunale di Tolentino. Non molti punti all'ordine del giorno trattati dall'assise consigliare. L'ultima seduta del 2013 ha visto la costituzione di due nuovi gruppi consigliari, il nuovo centrodestra, cui hanno aderito Alessandro Massi, Giuliana Salvucci e Iosef Fogante, e Forza Italia, composto da Carmelo Ceselli e Antonio Trombetta. Passando alla trattazione dei punti è stato approvato il regolamento per il controllo analogo delle società partecipate, in questo caso la SSM. Due le interrogazioni, la gestione dei servizi di apertura dei musei e i lavori di adeguamento delle ex carceri. Sull'argomento il Partito Democratico ha anche proposto una mozione d'urgenza con cui ha chiesto la revoca della delibera con cui l'amministrazione comunale aveva appaltato i lavori e l'assegnazione dei locali. L'atto è stato respinto. Respinta anche la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che riguardava l'adesione alla carta di Pisa una sorta di codice etico per gli amministratori è stata invece approvata quella per la difesa del Made in Italy su impulso della Col di Retti.